Costruiremo un segnatempo per quando parpeggiamo con la macchina. Occorrente, matita, gomma, colla, ferma campioni. Cartone, punteruolo, cartoncini colorati. Asciugamano. Disegniamo sopra il cartone un pesce. Lo ritagliamo. Per il pesce scelgo il colore verde. Ripassiamo la forma nel corpo del pesce. Lasciamo fuori la bocca e la coda. Lo ritagliamo. Io ho scelto il rosa per le labbra, il giallo per la coda. Ascendiamo i pezzi. Ecco qua. Ora assegniamo le quattro estremità del cerchio. E segniamo due linette in ogni quadrante. Bene, ora abbiamo dodici segni. Scriviamo le ore del nostro orologio. Prendiamo il centro con un punteruolo. Lo ritagliamo in un rettangolo rosso e uno blu. Prendiamo i due cartoncini. Soprapponiamoli e li buchiamo con i punteruoli. Legniamo un quadrato sulle lancette. Smontiamo l'orologio. Soprapponiamo i cartoncini. Teniamoli ben fermi e buchiamoli. Ci scriviamo ore e minuti. Ecco qua il nostro pesce segnolaio. Ciao. 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 Ciao.